Nuovo appuntamento di SOS a Rezzo TV, finalmente Beppe diamo una buona notizia, nel senso che sinceramente non mi aspettavo che si sbloccasse visto che era tutto, sembrava fermo da anni, siamo nella piazza Fanfani all'ex caserme Cadorna, a Mintore, avevi il dubbio che già avessero fatto una piazza per... No, perché dappertutto mi dicono che ti hanno fatto le strade per te, dappertutto, in tutte le città dove vai, c'è via G. Marconi. Questa è una vecchia storia, fai la battuta dai. È vero. No, pensavo che tu già ritenessi che per meriti acquisiti sul campo avessero già fatto una piazza per Beppe. No, sinceramente queste cose si fanno per i morti, quindi aspettiamo. Quindi meglio di no, meglio di no. Però qui era tutto transennato, era un finanziamento del Pius. Possiamo anche rivedere qualcosa. Il filmato che era scaduto il termine da diverso tempo, il cantiere della Giuse e così via. Finalmente questa bella novità oggi lo troviamo aperto perché dall'8 settembre vedo gli uffici verranno aperti al pubblico e quindi tutti gli uffici che attualmente erano in via Cisalpino alla sede dell'ex Banca Italia vengono qui. Esatto, si tratta del servizio pianificazione urbanistica, governo del territorio, ufficio edilizio e ufficio tutela ambientale che si trasferiranno proprio qua. E allora dal 22 agosto quando sono iniziati i lavori fino allo spostamento il trasferimento avverrà insomma per fasi. Quindi finalmente dopo anni in cui appunto era tutto bloccato, c'era tutte le transenne, c'era una scuola prima, qualcosa di scolastico. Sì, e l'avevamo affittato noi alla provincia che ci aveva messo la scuola media. Ma noi chi? Noi, quando c'eravamo noi. Perché penso, così, a intuizione che c'entri qualcosa anche con questo spostamento tu? No, noi iniziamo l'operazione con la palazzina centrale dove trasferiamo poi tutti gli uffici pubblici che erano allora in affitto. E quindi di conseguenza mi sembra giusto trasferire qui un po' tutto quello che sono i servizi dell'amministrazione comunale in modo tale che il cittadino viene qui, trova il parcheggio e in un ambiente soltanto trova tutto quello che è necessario per avere rapporti con il comune. Manca ancora una parte dei servizi che ancora c'è l'altra palazzina che era occupata dall'università che è completamente libera che lì c'entra tutto quello che rimane da trasferire dall'amministrazione comunale. Quindi una volta utilizzato il tutto il comune d'Arezzo sarà tutto concentrato qui e tutti i servizi e tutti gli uffici saranno qui. Potrà quindi dismettere una parte di immobili necessari per fare altre cose, anche se è molto difficile poterli vendere adesso perché potrà vendere l'ex Banca d'Italia, potrà vendere Piazza San Domenico e quindi di conseguenza magari recuperare tutto l'investimento fatto qui anche se qui è una parte che è stata pagata dal Pios. Comunque è una bella operazione che è andata avanti nel tempo, è partita appunto con la palazzina centrale e prosegue con questo e spero termini poi nell'altra palazzina finale in modo tale appunto da trasferire gli unici uffici che ancora sono rimasti in giro che sono la scuola, la cultura e gli altri sport e tempo libero è qui. Non ci potevate mettere anche la polizia municipale qui? A questo punto qui penso proprio di sì. A questo punto qui sì. Così smettiamo anche via Sette Ponti. Sì ma l'affitto non si paga, è del lato, è sempre in casa. Però sarebbe più centrale, darebbe un servizio maggiore. Si potrebbe fare perché nell'ultima parte c'è un fondo, adesso, allora non si poteva perché c'era l'università, ma nell'ultima parte c'è un fondo c'è la possibilità di creare i parcheggi anche per la polizia municipale. Quindi perché no? Sicuramente potrebbe essere fatto. Allora siamo contenti che insomma anche questa palazzina finalmente vedrà tutti questi servizi che si sposteranno qui, quel cantiere fermo che abbiamo fatto vedere da anni, con i soldi un po' perché passava dal Pius, quei finanziamenti che Arezzo era riuscito a intercettare, finalmente insomma sembra arrivato, anzi sembra, sarà a compimento perché a breve sarà inaugurato. Peccato che l'altra metà del guado, se noi ci affacciamo all'altra parte di questa piazza, perché per riqualificarla anche da presenze, diciamo, di degrado e presenza ai margini, finché però ecco, anche proprio a livello estetico vediamo anche questo murale, insomma non è che dà quel senso proprio di... È questione di gusti. Sì, questione di gusti, però a me dà un senso così un po' sudamericano. Comunque, con tutto il rispetto con il sudamericano, quasi un po' da favelas mi dà l'idea, così a pelle, poi da te ti piacerà un'opera d'arte, vabbè, però vedi dall'altra parte quello che era il Palazzo dell'Enel, tra altre palazzine ormai in disuso, è un peccato che l'altra parte sia ridotta così e non vedo soluzioni vicine. Per adesso no, per adesso no perché gli investimenti non vengono fatti, la gente non investe, per cui anche chi ha comprato il Palazzo dell'Enel si deve sobbarcare l'onere di tenere un immobile fermo in quel modo lì per adesso perché non c'è possibilità di vendita. Magari di là sicuramente qualcosa dovrebbe essere fatto in quel facciata fatiscente che dà su Via Vido Monaco e magari anche una ripresa delle palazzine qui, ex comando della caserma, però tutto non si può fare in un giorno, vediamo però che ci sia la buona volontà, già un buon recupero c'è stato. Speriamo di finire la svetta. Accontentiamoci con questa nuova bella palazzina che davvero non pensavamo fosse ormai sbloccata. Ci vediamo domani. Ciao.